Vado a chiedere io, se non fanno l'esame che cazzo tu vuoi fare? Io dovrei, se non so, una visita... Vado solo a chiedere. Ehi, ma mi ha detto di qui. E uno mi ha detto di qui, da te lo dite di no. E' capo salvo. E' capo salvo. E' capo salvo, se lo fanno l'avevo aspirato. Lo fanno? L'avevo aspirato la lima, lo fanno. Non lo so, qua no. Ma mi ha detto di sì, ma mi ha detto di sì. Sì, no, sì, non lo so. Vado a chiedere. Quanto è? 34 e mezzo. Vado a chiedere. E non so se qua... Vado a chiedere, mi ha detto di sì, mi fa venire qua per niente. Però sei dei coglioni, prima vi dico di sì, poi di no. Io non lo so, quest'altro qui non ne so niente. Sì. Vado a chiedere. Vado a chiedere. Vado a chiedere. Grazie a tutti. Scusi, io sono l'informazione perché io sono qua. L'ha cospirata la lingua, lo fai? No. Alla lingua. A me mi ha detto che lo fanno qua. Ma qua si fa tutto il sangue. E me l'ha detto lì all'ospedale, lì, poi sono venuto, mi hanno confermato che era qua. No. No, no, no. Dov'è che vai? E' andato qua all'ospedale, ma è andato qua. E' andato qua? Non lo fate. Però voglio dire, c'è preso una presa per il cu. Prima mi dico lo fate o non lo fa, ma c'è. C'è uno adesso, uno mi fa per niente, ma... Ma pensa a te, oh. C'è una roba... Mi dicono di andare all'ospedale, ma all'ospedale mi ha detto qua. Ma ora è una buffonata. Una buffonata, ma tu mi dicono che lo fanno, poi non lo fanno. Ma è una presa per il cu. No. C'è una presa per il cu. Sono dei buffoni. Questa è la sanità di Gallena, Fontana, di Salvini. Sì. Ma tutta la... Privato però, è privato a pagare, sì, eh. Forza. Eh. Noi non possiamo stare in assembramento. In assembramento. Non si può fare niente qua l'assembramento. Eh, andate a cagare, va. Siete dei buffoni, pezzi di merda, va. Vaffanculo. Coglioni.